Buonasera e benvenuti al nono seminario organizzato nella Scuola di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova. Questa sera discuteremo della decadenza della lingua, un fenomeno reale. Questa è la domanda che abbiamo cercato, una domanda che fosse un po' provocatoria, visto che si parla da un po' di tempo, da un po' di anni, di questo fenomeno che forse non esiste, forse esiste. Nei seminari dell'Alexander von Humboldt, questa sera abbiamo l'onore di avere una rappresentante dell'Alexander von Humboldt Collegen italiana ed è la professoressa Marina Foschi dell'Università di Pisa che discuterà con il professor Lorenzo Renzi dell'Università degli Studi di Padova che ci onora della sua presenza e della sua conoscenza questa sera. Io lascio subito la parola alla professoressa Marina Foschi e la pregherei anche di presentarsi. Grazie.